come come si può essere al contrario cioè nel senso io l'ho già detto a piazza pulita c'era il diciamo il portavoce il portavoce delle sardini delle sardine dico io anche sono convinto che la politica si faccia con ragionamento e non con gli slogan sono convinto che quello che mi trovo davanti non è il mio nemico ma il mio avversario politico e devo rispettare le sue idee anche quando la condivido c'è il metodo è lo stesso che penso che io paolo non è stata così la politica italiana perché normalmente le persone che ragionano in questo paese non piacciono non è stata così la politica italiana però io personalmente sono sempre stato così e mi considero un uomo di centrodestra anche più a destra però la destra è molto meglio rappresentarla come uno becero che rutta mentre dice un concetto banale piuttosto che qualcuno che cerca di approfondire temi li studia e dice qualcosa magari pensandolo seriamente pensando al bene del paese quanto lo dice non a se stesso con la sua parte politica per cui io riconosco la capacità del centro della destra della sinistra di avere idee di rappresentare la politica con la p maiuscola l'ho sempre riconosciuta tutti io non ho mai parlato di bibiano l'unica volta che ho parlato di bibiano era per dire che un sindaco che da una sala per per qualcuno che fa una conferenza non può essere classificato come uno che prende i bambini e di violenta l'unica cosa che mi sono permesso di dire sui social sulla vicenda bibiano per cui esiste c'ho detto sono come no c'ho detto che mi sono dimesso dal parlamento ci ho detto sono uno che pensa che quello che quella vicenda ha rivelato non può essere nascosto perché una cosa di una gravità scandalosa che qualcuno falsifichi il cerchi di falsificare la mente dei bambini per portare via una famiglia ma non identifico con con una città non voglio banalizzare perché io parlo di temi però è vero che noi abbiamo passato anni a dire che il centro destra e la destra era solo la parte brutta cioè che tutte le cose che venivano evidenziate dal centro destra e dalla destra hanno cose brutte becero egoiste mentre dice io sono anni ad esempio sul tema immigrazione che dico ma se io a casa mia dove abito io anche qua a roma l'immigrazione non è un problema non è un problema l'immigrazione un problema il mio vicino non c'è nessuno che cucini il kebab o sottono gli spaziatori sotto casa in un'altra zona della stessa città l'immigrazione è diventato un problema drammatico sconvolgente con cui chi vive lì ha sommato difficoltà a difficoltà paure a paura insicurezza ad insicurezza e il non capire che la parte più povera del paese ha subito dall'immigrazione una ferita che è stata più violenta di quella che avrebbe subito la parte meno povera del paese se ne avesse subito una uguale il fatto di non volere vedere e dire che considerare l'immigrazione selvaggia un problema e significa essere razzisti è quello che ha staccato la sinistra da una parte del paese c'era un film francese qualcuno ogni tanto gira sui social no dell'immedi quello di diceva a san remy voi venite a vivere a san remy a vent'anni fa che spiegava dove c'era una persona che abitava in un quartiere popolare che spiegava una famiglia borghese ma venite a vivere da me poi capite perché io ho paura di questa immigrazione perché volete vedere cosa fanno a me e alle mie figlie allora questo è il tema poi c'è qualcuno così becero da pensare che parlare del problema migrazione voglia dire vuole far morire qualcuno in mare ecco capite che noi in italia siamo riusciti a pensare che chi voleva parlare del problema immigrazione voleva far morire i bambini in mare sono due cose diverse ripristiniamo per quello io amo poi bisogna vedere se sarà così la proposta che fanno le sardine perché io voglio poter parlare di idee di politica di problemi con rispetto verso la persona che la pensa diversamente a me offrendogli lo stesso rispetto e poi lo analizziamo perché altrimenti se ci scontriamo a furia di slogan come avviene ormai da oltre dieci anni in questo paese non andiamo da nessuna parte finisco solo paolo io sono stato otto mesi adesso in parlamento sa quante volte sono intervenuto in dissenso dal mio gruppo votando circondato a palini verdi rossi o rossi verde perché ed è quello che vorrei facessimo tutti facessero tutti quelli che vanno alla camera e facessimo tutti quando siamo in televisione non avere paura di dire quello che pensiamo se riteniamo sia il bene di questo prescindere dal rispetto non avere delle magliette attaccato tu sei un beccero sovranista no io c'è per cui hai la maglietta sporca tu sei una zecca di sinistra basta se maglietta ascoltiamo il minuto sbaglio avviene reticomento noi continuiamo a incontrare